Iper Bimbo a Cava dei Tirreni in via 25 luglio numero 263 è il megastore specializzato in prodotti per l'infanzia. Non perdere le offerte che si rinnovano continuamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo! Domenica prossima, 14 gennaio, partirà il primo appuntamento con l'ottava edizione delle Domeniche della Salute, l'iniziativa firmata ormai da anni da Rotary Club di Cava dei Tirreni e che mira alla diagnosi e alla prevenzione della cittadinanza. Specialisti volontari di vari settori offrono gratuitamente la loro professionalità per eseguire uno screening di malattie molto diffuse in favore della cittadinanza. Il primo appuntamento è molto importante perché si tratta di uno screening per le patologie della mammella. Si avvicineranno i due specialisti, il dottor Alfonso Maiorino, oncologo-chirurgo, e il dottor Marazziti come ecografista. Quest'anno abbiamo voluto dare un qualcosa in più, almeno come qualità, nel senso che mentre nelle annate precedenti c'era soltanto il medico che visitava e quindi dopo, se era necessario, si prescrivevano esami diagnostici, oggi il clinico ha il supporto anche dell'ecografista, in modo che si anticipano l'iter diagnostico, nel senso che se poi dopo sarà necessario ulteriori accertamenti tipo mammografia o altro. Quindi abbiamo voluto fare questo, forse a scapito del numero delle visite, perché chiaramente questo comporterà più tempo per ogni persona che si avvicenderà. Mi fa piacere presentare e ringraziare i due specialisti da parte del club, del Rotary Club di Cava del Tirredi, del presidente di cui io in questo momento faccio le veci, perché lui è impegnato per motivi istituzionali in altre parti. Domenica, dalle ore 8.30 alle 13, presso il Centro di Radiologia e Terapia Fisica di Cava dei Tirreni, sito in via Onofrio di Giordano, numero 15, si potranno effettuare visite gratuite sulle patologie della mammella, grazie anche alla presenza dei dottori Alfonso Maiorino, chirurgo-oncologo, ed Andrea Marazziti, radiologo-ecografista. Il senso della prevenzione nella patologia mammaria è fondamentale. Non c'è altro organo facilmente accessibile alla visita clinica, quale la mammella. Solo con difficoltà più tecniche può essere considerato l'utero. La mammella è sicuramente un organo sede di neoplasia molto diffusa dalle donne, anzi, se si esclude il fumo, il cancro della mammella è il tumore a più alta incidenza in Europa e anche negli Stati Uniti. È un tumore che è legato alle condizioni ormonali della paziente ed è legato anche alle condizioni ambientali. Un'osservazione e poi andiamo nello specifico. Più si sale da sud verso il nord Europa, più aumenta il cancro della mammella. Che significa? Che il tipo di alimentazione legato ad un eccesso di colesterolo porta indirettamente ad un aumento di tumore mammario perché aumenta la quota di estrogeni che bombardano la mammella. L'esame ecografico è l'esame principe, cioè l'esame meno costoso sia dal punto di vista economico ma soprattutto dal punto di vista del danno che si arrega alla paziente. Quindi è un esame facilmente e largamente praticabile e permette di individuare quei casi che poi eventualmente debbano essere approfonditi con la mammografia o addirittura, come diceva il collega, con l'ago aspirato mammario.